amici zagoriani bentornati eccoci dopo una settimana di pausa riprendiamo i nostri video sul mondo zagoriano sulle uscite zagoriani riprendiamo con le uscite della settimana scorsa in questo caso il volume del correa della serie a gazzetta dello sport la macchia verde uscito settimana scorsa il numero 86 diamo un'occhiata velocemente come questo volume anche perché ci sarà una storia di pinisegna ne parleremo ne parleremo insomma allora vediamo il costra si la sagoma numero 86 va bene abbiamo detto di hellingen ormai più della metà qui vediamo il volto ben definita che andrà poi a lasciare il posto non mi ricordo a chi o cosa nella quarta di copertina una vignetta della storia che comincia in questo volume una storia di pinisegna ok diamo un'occhiata vediamo un po allora nel sommario troviamo il mio zagora pagina 4 poi la fine della storia iniziata nel numero scorso il grande fiume del 66 di nolitta ferri che dura veramente poco perché a pagina 13 comincia la macchia verde del 77 di nolitta pinisegna finiamo poi con il mondo di zagor e gli archivi buonelli allora sul mio zagor io tu noi tutti zagoriani ah no scusate ho letto male io tu noi tutti zagoriani per sempre ho lasciato una virgola ok vediamo un pochino fabio l'icari ci parla del dunque un nasi vediamo il dvd del film noi zagor che è uscito diversi anni fa che uscì al cinema in delle date prestabilite ed è un documentario di giacopino che parla del mondo zagoriano appartenendo proprio dai creatori disegnatori e anche i lettori fan che sono i lettori zagoriani come ben sappiamo noi sono molto particolari ok si si parla della prende spunto danno i zagor per raccontare un po a grandi linee la nascita di zagor il periodo di tra 61 dove c'erano beatles kennedy e i vari avvenimenti importanti di quegli anni parlando poi del film del documentario di giacopino e dei vari argomenti di cui tratta che vediamo una bellissima immagine di ferri nel suo studio a lavorare ok allora grande fiume l'ultima parte della storia iniziata nel numero scorso che dura poche pagine perché finisce subito in sei pagine quindi proprio la fine e comincia la macchia verde la macchia verde di sempre nolitta disegni di pinisegna pinisegna grandissimo disegnatore che ha un po diviso i giudizi zagoriani perché molti non ritenevano il suo tratto non molto adatto per zagor nonostante vi ripeto fosse un grandissimo disegnatore forse per le sue pennellate per i suoi sfondi non molto completi vedete quanto vuoto lasciava la storia comincia come sempre con una gag di cico nolitta sappiamo che non rinunciava mai a una gag iniziale di cico ecco vedete come vi dicevo questi primi piani di uso di che usavo molto scusate pinisegna poi quelle sue pennellate che usava per non so se poi usava il pennello ma io li uso come termine vedete che tratto queste rifiniture rifiniture queste chine che metteva aveva un tratto decisamente vedete particolare nonostante tendesse ad avere sempre un classico tratto non innovativo roba del genere ma tendeva a fare i visi specie negli occhi vedete questi primi piani che non forse non soddisfaccevano presente alcuni una parte del lettore ecco diciamo scusatemi mi sto perdendo di guardare questa storia che da tanto che non la sfoglio però chiaramente sulla sua abilità non c'è niente da dire ok la storia si svolge in tutto il numero si vede anche gli occhi erano una delle critiche che veniva rimossa che poi vi ripeto è sempre una questione di gusto personale questi occhi sempre sgranati o accentuati però secondo me non era tra i miei preferiti ma non c'è dubbio che fosse un grandissimo disegnatore già in questo periodo che era già sono tanti anni che lavoravano non ha esordito certo su zagora ecco voglio dire che la storia si svolge in tutto l'album vi ripeto molti vedete molti sfondi bianchi ok non ve lo faccio vedere tutto perché che non ho letto sennò vi tolgo qualche sorpresa arriviamo in fondo dicevamo che finisce con un continuo quindi nel prossimo numero che porterà alla fine di questa storia uroni l'attributo di cui si parla in questo album nel mondo di zagor è una bella tavola di valter venturi vediamo se ci dicono si eseguita 2015 per zagavia una manifestazione fumettistica zagavia prossimo numero sangue masai e possiamo vedere che i titoli che avevamo già detto arrivano fino al 100 li ridiamo un'occhiata velocemente sangue masai l'ospitato timber bill e adoratori di kali robino da darkwood ma di fox la volpe o vediamo la casa della gente felice operazione big step la cavia umana c'è il fuggente la febbre dell'oro uomini pipistrello sky lab terrore dal pianeta acron hellingen ultimo atto quindi si conclude al 100 per ora con la storia di hellingen ok ragazzi già uscito avete visto non vi dico andate la prende chi lo voleva l'ha già preso perché è della settimana scorsa ma comunque gli abbiamo dato un'occhiata insieme a questo numero la macchia verde della serie del core della sera gazzetta dello sport buona giornata a tutti